Sono alle 9.30, oggi ho solo 30 minuti di guarda e mi fa tremendamente male il petto, però ho un grosso problema, ovvero è di ieri sera che continuo a scureggiare senza sosta. Non so che fare, aiuto. Ero veramente affranto stamattina, così ho deciso di chiamare il mio caro amico, censuro per salvaguardia vostra, e di fare con lui una lunga chiacchierata. Mi ha aiutato anche a tirar fuori strane abitudini della mia gioventù, ovvero a girare attorno alle cose senza un motivo logico. Poi è arrivato il momento del brunch time, con Yuri. Inizia a montare i video del giorno precedente, e prima che me ne accorga è già l'ora di cena. Alle 7! Che più sai? Io ho sempre saputo, lo sapevo, non sarei mai dovuto venire qui. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con me, è con te, è col riso. E vabbè ragazzi, prima o poi tutti dovrebbero morire. Finisco le riprese per il video di domani, è Midnight Snack Time! Yuri sei passata nuda? Midnight Snack! Non sei nudo. Midnight Snack! Non sei nudo! a a a a a